Direi due cose. Prima sono tutti consapevoli del fatto che il nostro sistema prevede che sia la regia del Presidente della Repubblica a essere chiamato a individuare le soluzioni che a tutti appaiono non facili alla crisi e che a questo ruolo, a questa regia i governi europei naturalmente si affidano. La seconda consapevolezza, mi pare diffusa, è che lo Stato dell'economia italiana è uno Stato incoraggiante, detto in altri termini, quindi al momento non si profila l'ipotesi che la eventuale, vedremo, adesso sono passati tre settimane neanche dal voto, abbiamo avuto paesi, ho sentito, mi sono venuti a parlare diversi record man che sono presenti, come sapete, nel Consiglio europeo di caretaking, ma gli ho spiegato che il sistema italiano è leggermente diverso. Però, voglio dire, non si profila il rischio al momento di un incrocio tra una non soluzione o un ritardo nella soluzione della crisi di governo e una difficoltà, un'incertezza o addirittura un rischio nei mercati. Io interpreto questo naturalmente come un risultato delle politiche monetarie della BCE, del lavoro fatto in questi anni, della congiuntura favorevole di cui parlavo prima. Tutto questo fa sì che non ho visto, ho visto interesse sull'evoluzione della nostra crisi, consapevolezza di come funziona più o meno il sistema italiano. Non ho visto allarme sul fatto che in questa fase questo possa produrre una particolare destabilizzazione in termini economici, finanziari e dei mercati. Naturalmente, se parliamo dei fattori endogeni del contesto italiano, se volete una certa preoccupazione per quello che succede attorno a noi nel mondo e in particolare per le dinamiche commerciali che possono delinearsi, credo che invece sia una preoccupazione che un po' tutti dobbiamo avere. Perché per questo è da maneggiare con grande cura questa vicenda dei daazzi e dei rapporti commerciali. Però ecco, se vogliamo sintetizzarla in un titolo, non vedo un'allarme Italia per la stabilità dei mercati, per lo spread e queste cose qui. Vedo la consapevolezza che la convergenza nell'eurozona e il lavoro fatto dai governi italiani in questi anni garantiscono una certa stabilità, naturalmente, il che non vuol dire che questa situazione sia eterna e immutabile e quindi certamente c'è un impegno da parte di tutte le forze parlamentari di concorrere a una soluzione della crisi.